Ambrosini, la Corsa del Sommaco è un appuntamento mezzo sportivo e mezzo per passare una giornata diversa dal solito. In particolare per passare una giornata diversa dal solito, passare una giornata fra amici, farci una bella passeggiata e conoscere al meglio quello che sono i paesaggi carsici e le zone a noi più vicine, le zone più caratteristiche di questo nostro paesaggio. Senta, questa se non sbaglio è la terza edizione, caratteristiche principali perché ogni anno si cerca sempre di fare qualcosa in più. Sì, questa è la terza edizione, abbiamo curato nei minimi particolari il percorso, abbiamo curato nei minimi particolari anche per quello che riguarda le località di interesse, la Trencia Gioffre, le Quoto 85 per far conoscere un po' a tutti il paesaggio, il panorama e in più abbiamo curato anche certi particolari del percorso che prevedono una sicurezza ancora maggiore per tutti i podisti e gli amatori della camminata e non solo della camminata ma anche della corsa. Tante cose si potrà anche, fondamentalmente, fare anche una sola lezione di storia all'aria aperta poi. Assolutamente, qua abbiamo tanta storia da raccontare, tanta storia da vedere, in particolare farla vedere alle nuove generazioni perché sempre di più arrivi questo messaggio che le guerre assolutamente sono la cosa più errata che noi possiamo andare a mettere in piedi e quindi è sbagliatissimo e cerchiamo di partire da queste piccole cose per far capire le cose molto più importanti.